un letto e dogs out un letto e dogs out attenzione boys attenzione stepsino va lì mamma mia mamma mia inizia proprio la streak di quel game ciao zanone che belli questi capelli incredibile interessanti e ma come la mettiamo gri allora bisogna intanto vedere se c'è qualcuno qua in alto che lo sgozziamo subito che il palap è il posto tipo meno frequentato di tutta la mappa a steppi io te vedo oh steppi per favore ezio porco oh guarda la mossa del jaguaro la mossa del jaguaro ahhh è giammato ma è morto pure ma come è giammato giammato andava a fare una bella escape room ti va no non era non era previsto che dove rispondesse ragazzi in realtà io non ho trovato giammato però ho trovato il signor cattivone con le sue colossi sopracciglia eh saitsea è giammato in cucina ah ma ma allora no elettrica potremmo tirarla fuori effettivamente Oh Un po' di elettrica ce lo facciamo Un po' di elettrica boys Respiriamo un po' quest'area Senti 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 che bell'aria Allora qui qui sotto c'è qualcuno per forza Perché hanno fatto elettrica subito Stetino va lì Ok È pericoloso È pericoloso zi Non posso fare una kill qui in mezzo È molto pericoloso Non posso fare un cazzo qui Non mi fido troppo Porco due Eh le porte Insomma Neger Non mi fai una bella sbotolata Ma che sbotolata Allora il cadavere era Esattamente A fianco alla vanderia sulla destra Nel pianerottolo L'unica cosa che c'ho Vi posso dire che ho appena incrociato E stavo insieme a A paddock Con Stepsinto Allora Allora Io Cree E Steto E una E Steps Eravamo a sinistra Di cui tipo In quattro Eravamo tutti quanti Dove c'era Coms a risolverlo E il cadavere stava a destra A destra della lavanderia Ma che sbotolato L'unica Non è mai passato lì Ragazzi Me lo so ritrovato Stava sopra Sono andato sotto E stava sopra Più che altro Stetì Tu Tu da dove sei arrivato Quando eri in armory Io sono spawnato in kitchen Sono andato in armory E ho cercato Negli angoli di armory Le luci Ho fatto i cavi delle luci Poi ho visto Delu che facevi Il telefono Sì Ok E ho visto Cree Me ne sono andato Per aprire la porta Ho detto Magari qualcuno Si è ammazzato Sono tornato indietro Ma noi siamo spawnati Tutti a sinistra Cioè Qui è qualcuno Che sta a destra Si 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 True 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 Ah Bob Ok Eh no Questa è dischiusa Perché mi hanno visto Che stavo bazzicando In questa zona Guardi dei coglioni Vediamo in vital Se c'è qualcuno Ma non credo Ci sia qualcuno Actually Di sopra comunque Tipo what the fuck Cioè Ah è vero Ho tolto i comms Se vado a controllare Vitals Eh L'avevo visto Dalle telecamere Stavo correndo Apposta Ok Chi Eh no Non lo so Chi È il morto Da quali telecamere L'hai vista Ah Ok Ok Ah pensavo No pensavo Vitals Perché in telecamere Ci sono passato Ora non t'ho vista Io ho la mia Cioè secondo me Don Chavez No io sono stato con te Anche Adesso stavo salendo Da labirinto Cazzo non t'ho incrociato Ok io ero in cucina Sono passato La porta chiusa E io potevo Io schifo Eh no Ebbene No è vero Merda Eh l'hanno votato Anche i campioni Perché era chiuso Era chiuso Porca puttana Albus Ti devi sdraiare Albus Albus Ma Dai Che stai a fa Albus Basta Mi fai il solletico Non mi leccare Ma chi t'ha mandato No way No way What Prego No way Chi è che c'era vicino a voi Non lo so Io sono salito subito In meeting room Perché se abbiamo trollato Boh Non mi fido Allora può essere Che l'abbiamo cacciato Perché non hanno fatto reattore Però non mi fido True Possiamo adottare La tecnica del marzone E buttare quello più Sospetto fuori E comunque E comunque still Magari uno l'abbiamo preso Se ne buttiamo fuori Se buttiamo fuori Unp Che è sospetto È quello che dico A quel punto A quel punto Li imbrocchi entrambi Oppure uno dei due Lo laseri Così E se fosse il maestro In tutto questo Ehm UMP45 Vola Se abbiamo sbagliato Tutte e due È una vergogna Però così Uno dei due Per forza l'hai preso No minchia Sbagliarli entrambi qua Mi sembra Cioè Porca puttana Alla fine sono Marza e Stetino Impazzisco Guarda Bravo maestro Porca puttana Cazzo Questo è difficile Con loro Bisogna Avanzare Sospetti Far avanzare Sospetti Su Steto Non andare Non andare lì No Lo sapevo Lo sapevo Brutto porco Brutto porco Attenzione Questo silenzio Brutto porco Lo sapevo Il signor De Luca Voleva sfuggire A me Voleva sfuggire No No È quel momento È quella situazione Ah sì No Questa è la place Della vita Di Steto È la place Della vita Di Steto What the fuck Eravamo noi tre Eravamo noi tre Eh sì 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 Mannaggia Mannaggia I sandali Mannaggia I sandali Grimortacci Di Vippo Lo sapevo Lo sapevo La zanata Ma lo sapevo Ho detto Non lo devo fare Non lo devo fare Non lo devo fare L'ho fatto Non ce la potevo Eh vabbè Eh Giampone Per forza Perché se n'era Un disagio Mamma mia Con Stetino Albus che cazzo Stai a fa' Ma che fai Ma che fai Ma tu sei un gatto strano Ci bevo lì E ci metti la testa E sei rincoglionito Allora io vedo Una telecamera Che si accende E impazzisco Impazzisco Il marzone Il marzone Già mi dà fastidio Ma basta Sbiro infame E' morto Tre volte All'unione Ragazzi Vabbè La sua serata La sua serata Se l'è fatta Allora Si fa subito Coms Quindi rompiamo Il cazzo Poi siccome siamo stupidi Controlliamo i vitals Con i coms Disabilitati Tutto torna E' proprio la nostra Streaming Dove cazzo Dove cabbo Vado Il cattivone Col cazzo Ah te la rigioca Fazzone Ah Ah Fazzone Guarda Fazzone Ti sgozzo Cazzo Ci sono le telecamere Devo stare attento Eoh Franco Armani Ma che è Che è che ha le telecamere E qua Porca puttana Vieni qui Porca la puttana Vieni qui Steps Erutti Io non ho visto Un cazzo ahahahahahahahahahahaha Ah è morto anche Don E allora Un botulino è stato questo L'ultima volta che ho visto Don Chiave stava in Vitals Dove l'hai trovato? Scusa il corpo? Qui Don Chiave? No è Steps No non l'ho trovato era Steps Perché stavo guardando Vitals Steps è morto da due volte Invece Don Chiave è appena morto E tutto questo Franco Armani che non ha detto niente Ha detto solo Zack vaffanculo Franco Armani ha anche detto Ah quindi così lo stai dicendo No raga Io sta manca non ho mai giocato Oh ma voi imparate tutte tutte subite Se vuoi sentirti più tranquillo E buttarmi fuori Dero non c'è problema A me mi fa bene tutto Basta che non mi dici che non conosci Era su con mezza Era su con mezza Bello Kree Tutto apposta Kree Come va? Questa esperienza devo dire che comunque è stata un'esperienza molto interessante Ciao Giorgio Tutto a posto? Un saluto 5 4 Oh cazzo 4 3 2 1 Che è successo? Non ci posso credere Allora vi racconto questa scenetta Mi sto facendo un po' i cazzi miei perché ho finito le task da due ore e cammino un po' e a certo punto una persona sbuca fuori da una potola ok questa persona sbuca fuori dalla potola mi guarda, io lo guardo gli scambiamo un saluto vado avanti a segnalare il bottone qui si chiudono le porte in faccia scena di Shining la porta dietro di me si apre instant, io riesco a aprire quella dopo salgo le scale, boom, reattore attivato mi nascondo vicino alla toccetta dove c'è il bottone c'è una toccetta e l'assassino che ha sbotolato mi guarda, si gira mi riguarda e viene segnalato il cadavere mentre stava per premere kill Kri, ma secondo te secondo te è stato proprio Bob guardatevi la verità, secondo me potrebbe anche essere che Bob ha eseguito questa azione ma tu sei sicuro di questa cosa? al 100% come fai? come fai ad avere questo? c'è Stepsito che sta gridando da 6 ore ma chi è? scusa, i due impostori ti hanno votato bello, questo si carica comunque vaffanculo Bob no, no, Zano non chiama adesso ecco aver fatto questo triplo gioco mi ha portato a capire chi è l'altro impostore e chi era l'altro impostore oltre a Bob l'altro impostore è Stedo951 impossibile non ho mai preso una botola brutale brutale così no, è quello che avrei voluto fare io con il game con Jammo all'inizio quando l'avevo visto però non ci sono riuscito ma no, no, no quella lì è scena da film quella è bande nere 16 noni è bellissimo cioè quello lì è un film non ci sono Grazie a tutti.